Era uno strumento atto per aiutare direttamente le piccole e medie imprese, però non ci ha risposto direttamente in cui speravamo che ci dicesse almeno una temporaneità ben precisa. Come avevate già detto voi del Governo, avevate millantato che poteva partire dal 1 gennaio 2016, il 1 gennaio da vedo dal calendario, mancano 15 giorni, perciò dalla risposta non mi sembra che manchino 15 giorni da quello che ha detto perché passeranno ulteriori mesi, senza avere possibilità anche perché nella stessa legge di stabilità abbiamo proposto un emendamento in cui si finanziava le risorse necessarie per questo fondo, ma ahimè voi già qualche ora fa in Commissione nottetempo l'avete bocciato, perciò non potete più mentire su queste e su altro, perciò abbiamo necessità di capire quando possiamo accedere, soprattutto le piccole e medie imprese possono accedere a questi fondi che sono già stati stanziati. Grazie. Grazie onorevole Allasia, siamo all'interrogazione 3.1901 del deputato Paglia, concernente iniziative di competenza volte ad evitare nuove crisi bancarie a tutelare i piccoli risparmiatori. Il deputato Arcuro Scotto ha facoltà di illustrare l'interrogazione che ha sottoscritto in data odierna. Per un minuto. Prego, Presidente Sotto. Grazie, signor Presidente. Gentile Ministro, è oggettivo che in questi giorni ci troviamo di fronte a una crisi di credibilità del Governo e degli istituti di vigilanza per quel che riguarda il sistema bancario. Il salvataggio delle quattro banche genera disappunto tra i risparmiatori e rischia di aprire ulteriori elementi di sfiducia che potrebbero protrarsi nei prossimi mesi. Oltre 200 miliardi sono le sofferenze bancarie, secondo i dati di Banca Italia e dell'ABI. La domanda che le poniamo è questa. Come intende, come intendete stabilizzare il sistema creditizio e evitare nuovi casi come Banca Etruria, Banca Marche, Cassa di Ferrara e Cassa di Ferrara.